Cercava carpe ma ha trovato la morte. Un bracciante agricolo bulgaro di 45 anni era andato a pescare ma poi si sono perse le sue tracce. L'uomo è stato inghiottito nelle acque di un vascone in riguo nei pressi di Foggia a passo breccioso. Il cadavere dell'uomo è stato recuperato dai sommozzatori di Bari dopo aver cercato per ore nell'invaso insieme ai vigili del fuoco di Foggia. Ad allertare le forze di polizia sono stati alcuni connazionali dell'uomo che, raggiunto il posto dove credevano di trovare il loro amico, hanno trovato solo il secchio con il pescato e la canna da pesca. Forse un malore o un incidente è la causa della caduta del 45enne che si era avviato a pescare alle 13.30 in una giornata tra l'altro davvero calda. Sarebbe scivolato nell'invaso grande circa 10.000 metri quadrati e lì sarebbe morto.